Buonasera a tutti e benvenuti a questo panel, a questo evento che abbiamo chiamato molto provocativamente intelligenza artificiale essenziente o deficiente. Io sono Tatiana Tommasi, sono un docente del Politecnico di Torino e mi occupo appunto di intelligenza artificiale. Quindi questi aggettivi, questi epiteti che stiamo usando oggi per il titolo di fatto riguardano il mio lavoro, riguardano l'intelligenza artificiale ma in realtà riguardano un po' tutti quanti noi perché ad oggi l'intelligenza artificiale non è più qualcosa di freddo, di lontano, qualcosa che lasciamo diciamo ai film di fantascienza ma è qualcosa che vive con noi fondamentalmente tutti i giorni, è quello che diciamo è il calendario che ci ricorda che abbiamo un incontro a una certa ora di un certo giorno, è l'orologio che oltre a dirci l'ora ci dice qual è il battito cardiaco che abbiamo in questo momento, quante calorie abbiamo consumato con la passeggiata che abbiamo fatto per arrivare fin qui e quindi fondamentalmente vive con noi l'intelligenza artificiale, la portiamo al polso, la portiamo in tasca con i nostri cellulari, l'abbiamo a casa con i nostri diciamo aiutanti, chiamiamoli così, c'è la aspirapolvere intelligente, ad oggi abbiamo la lavatrice intelligente che sa come fare, come lavare i panni, abbiamo i nostri aiutanti, i nostri speakers che rispondono ai comandi, accendono, spengono la televisione o le luci e così via, quindi sappiamo che l'intelligenza artificiale ormai è parte del nostro quotidiano, ci guida in macchina per arrivare dove vogliamo andare. Quindi è inevitabile fondamentalmente che adesso che abbiamo a che fare con l'intelligenza artificiale tutti i giorni proviamo anche a, cominciamo anche a valutarla, giudicarla, a capire quanto è capace di svolgere i compiti che noi gli chiediamo e quindi se è davvero d'aiuto e quanto ci possiamo fidare di questa intelligenza artificiale. Al Politecnico di Torino ovviamente non sono da sola a lavorare su intelligenza artificiale, ho tantissimi colleghi che si occupano di vari aspetti delle AI, ricercatori, professori, studenti, ricercatori appunto che stanno lavorando in questo ambito e ho la fortuna anche di dirigere l'unità ELLIS in Torino che è una delle unità della rete della European Laboratory for Learning and Intelligent Systems, quindi ELLIS appunto. ELLIS cos'è quindi questa rete di ricercatori e di persone che lavorano nell'ambito dell'intelligenza artificiale ai più alti livelli in Europa e si fonda e riesce chiaramente a essere sostentata grazie a fondi europei che i ricercatori stessi ottengono tramite i progetti sviluppati nell'ambito dell'intelligenza artificiale e del machine learning e ad oggi sappiamo che ha avviato mai da qualche anno anche un percorso di formazione per i nuovi ricercatori, un dottorato con un'entrata unica per tutti coloro che sono interessati all'intelligenza artificiale, quindi abbiamo un unico ingresso per poi connettersi a università non soltanto del Politecnico di Torino, abbiamo anche altre unità ELLIS in Italia Modena, Milano, Genova e le altre unità ELLIS anche in Europa, quindi Oxford, Cambridge, l'EPFL di Rosanna l'ETH a Zurigo, l'università in Germania, Technical University Monaco e così via. Quindi tutte queste unità e tutti questi ricercatori che si occupano di AI e che insieme hanno creato questa rete di eccellenza anche per aprire le porte ai giovani, a chi si vuole informare e istruire su questi percorsi. E questa rete e queste connessioni ci permettono anche di entrare in contatto con i grandi decisori, con quelli che chiamiamo policy makers, chi definisce gli standard, chi definisce le leggi che ci permetteranno in qualche modo anche di regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale. Ad oggi sappiamo che è un tool, propone una serie di strumenti, ma chiaramente l'Europa sta anche valutando come mettere delle regolamentazioni o definire gli standard anche per gli algoritmi di AI. Quindi abbiamo detto che vogliamo fermarci un attimo a giudicare, a valutare, a capire come eventualmente regolamentare l'intelligenza artificiale. E ci troviamo a questo punto perché abbiamo sistemi ad oggi che funzionano, che sembrano capaci di svolgere i loro compiti, ma su alcuni task sappiamo che sono ancora carenti, che mancano ancora di alcune capacità. Ed ecco la ragione per cui abbiamo una parte del nostro titolo, quindi intelligenza artificiale deficiente, proprio nel senso della sua parola, cioè di mancante ancora di alcune capacità. E quindi ci possiamo un attimo soffermare a capire di che cosa c'è ancora bisogno per rendere questa intelligenza artificiale migliore, perché possono essere gli algoritmi che hanno ancora bisogno di essere migliorati, possono essere i dati che hanno bisogno di essere supervisionati, analizzati prima di poter essere dati in passo degli algoritmi di intelligenza artificiale, ma potrebbe essere anche semplicemente il modo in cui vengono usati, il modo in cui vengono introdotti nei processi lavorativi, quindi l'approccio organizzativo in cui noi immettiamo questi sistemi di intelligenza artificiale nella vita lavorativa, neanche nella nostra vita di tutti i giorni, neanche nei sistemi aziendali, così come nel nostro sistema casa. Quindi così come stiamo sfruttando l'origine della parola deficiente, diciamo, quindi la carenza, la mancanza di qualcosa, vogliamo ugualmente sfruttare la parola senziente andando a vedere che cosa c'è dietro. Se consideriamo il vocabolario, senziente vuol dire un sistema che ha dei sensi, quindi elabora informazioni tramite sensi chiaramente, però c'è anche una virgola, diciamo se andiamo a leggere bene sul vocabolario, dice capace di sentire ma anche capace di avere dei sentimenti. Questa seconda parte chiaramente è ancora molto lontana della realtà. Sulla parte dei sensi siamo tutti abbastanza d'accordo, diciamo l'intelligenza artificiale lavora su dati, lavora su dati che chiaramente sono ottenuti da sistemi di percezione, quindi immaginiamo visione, quindi come i nostri occhi, diciamo le immagini, elabora audio, quindi informazioni sonore, testo, quindi chiaramente linguaggio, ma non solo, quindi abbiamo anche sistemi, sensori tattili, chiaramente penso alla robotica, all'applicazione robotica. Oltre a questi che sono i sensi che in qualche modo emulano e imitano le capacità umane, c'è anche qualcosa di più, i sensori ci permettono di vedere ad infrarossi, ci permettono di utilizzare radar, quindi avere anche più informazioni rispetto a quelli che sono i sensi umani. Tutte queste informazioni quindi sulla parte di sensore, sulla parte di sentire, siamo tutti d'accordo, l'intelligenza artificiale usa dati che originano da queste informazioni e li elabora in modo tale da distillare informazioni da questi e permetterci di prendere poi delle decisioni, cioè di tirar fuori quella che è l'informazione più importante e rilevante proprio per un certo compito che vogliamo svolgere. E lo fa molto bene, fa molto velocemente, molto di più di in quanto noi potremmo fare come esseri umani. E tuttavia oltre a, diciamo, distillare informazioni e tirare fuori, aiutarci in queste decisioni, in realtà al momento non fa molto di più. Cioè è molto, l'intelligenza artificiale ad oggi è molto verticalizzata, è capace di svolgere dei task, ma è ancora mancante, appunto torniamo sulla parola della carente, di quello che è un concetto di senso comune, senso di realtà che è ancora lontano da quello che l'intelligenza artificiale può fare. Quindi sui sensi siamo tutti d'accordo e sui sentimenti, beh, diciamo che siamo anche d'accordo che siamo molto lontani ancora in questo momento da un'intelligenza artificiale che capisca e che sappia riprodurre i sentimenti. Seppure guardando, diciamo, le cronache quest'estate abbiamo visto che c'è stata una discussione sull'intelligenza artificiale senziente e che un ingegnere di Google è stato licenziato dopo aver valutato senziente un sistema, un algoritmo che appunto era stato sviluppato da Google stesso e che appunto lui aveva testato. Si tratta di un sistema di conversazione, quindi fondamentalmente in grado di rispondere ad alcune domande e che apparentemente mostrava la capacità di avere una sorta di coscienza di sé, una capacità apparentemente senziente di emozioni. Che cosa sta succedendo? Che cosa stava succedendo dietro questo sistema che si chiama Lambda, è un sistema appunto di dialogo sviluppato da Google? Fondamentalmente nulla, si sta ripetendo esattamente il pattern che abbiamo detto prima, cioè un sistema che è in grado di fare bene il suo lavoro, di fare esattamente quello che noi gli abbiamo chiesto di fare, e cioè di produrre delle risposte che sembrano umane. Perché a differenza di altri sistemi precedenti di questo Lambda che erano stati addestrati sul testo ma che non avevano capacità diciamo di conoscenza del dialogo, invece Lambda è stato addestrato su dialoghi umani. E quindi cosa fa? Ripete questa capacità fondamentalmente e lo fa molto bene tanto da sembrare senziente, da emulare alcune capacità umane. Ma appunto siamo lontani da dire veramente che questi sistemi siamo senzioni. Quindi fondamentalmente con questo incontro di oggi vogliamo prenderci un attimo, un momento per riflettere e eventualmente valutare l'intelligenza artificiale, in che cosa oggi ci aiuta e in che cosa ci possiamo fidare diciamo che l'intelligenza artificiale faccia e su cosa invece è ancora carente. Quali sono le barriere che dobbiamo ancora superare per migliorare l'intelligenza artificiale da una parte chiaramente, ma anche come fare ad ottenere il massimo dalle AI facendo attenzione ai limiti e ai potenziali rischi che questa può generare se non applicata in maniera ponderata e pianificata. E ringrazio moltissimo gli ospiti che sono qui con noi e anche collegati da casa. Abbiamo la possibilità di fare questo discorso con Paola Bonomo che è con noi ed è consigliere indipendente, angel investor e advisor nel campo delle tecnologie digitali. Ha coperto diversi ruoli manageriali per esempio anche a eBay e Facebook, è tra le inspiring 50, quindi le 50 donne leader nel mondo della tecnologia in Europa, vincitrice di numerosi premi per le sue attività proprio di business angel. Abbiamo con noi Arnold Smurlus che è professore ordinario in multimedia information presso l'università di Amsterdam e un professore ricercatore sui temi della computer vision e del language processing. Ha un'estesa esperienza nel campo delle collaborazioni pubblico-private sia a livello nazionale che internazionale nell'ambito appunto della tecnologia e dell'intelligenza artificiale e la sua attività è proprio anche vicina ai policy makers, ai decisori europei. Ci dirà anche un po' su questo aspetto. Abbiamo con noi anche Stefano Quintarelli collegato da remoto. Stefano si definisce un imprenditore seriale ma è anche un professore di sistemi informativi, è uno dei pionieri dello sviluppo dei servizi della rete in Italia e quindi dell'ecosistema internet italiano, oltre che autore di libri sull'intelligenza artificiale, membro del Parlamento europeo nella diciassettesima legislatura e membro del Parlamento italiano, scusate, e membro della Commissione per i diritti e doveri internet della Camera dei Deputati. Quindi quello che farei in questo momento è semplicemente lasciare la parola ai nostri ospiti che ci porteranno la loro visione e il loro punto di vista su quello che è ad oggi intelligenza artificiale e dove è carente e che cosa può ancora fare. Comincerei con Ardard che farà il suo intervento in inglese. Ok, prego. Good afternoon. My name is Arnold Smilders. I'm from the University of Amsterdam. And as you said, I'm also active in Europe, especially in the public private part of Europe. My short presentation is called A Tale of Fear and Trust and we start with history. It doesn't start. Yeah, there it is. This is a letter from a Mrs. Latrop to Thomas Edison. And she thanks him for making her life so much easier by the invention of electricity. Now I work in AI research, but I've never had such a letter. Although you could imagine it would happen in the future. Because basically, if you use your telephone, your map, as I walk through Turin, it's very hard to not use the AI algorithms which guide you to the Polytechnic. And there are many other moments where you silently use and would be grateful normally to this Mr. Edison. But that's not the only view because this is John Kaye and he had invented the Fly Shuttle. And the Fly Shuttle is considered the first mechanical machine. And look at this history. In 1743, only 20 years later, locals refused to pay for his patent. And basically they raided his house. And he died. He summoned the parliament that they should do something. And they didn't. And basically he was expelled and ruined. And he died as a very poor man in France. So these are the two sides of innovations. That always it comes with fear. And always later when the people pick it up and do and integrate it into their lives. It comes with praise or the part that should be praised, of course. And in all of this AI is no different. And in order to... So I'm in favor of regulating it. But regulating the right things. Not necessarily regulating only from fear. Two more slides on history. This is Mr. James Watt. And he quite a few years after the invention of the steam engine. He invented the condenser. And the condenser made the steam engine much more efficient. And as a consequence of which, his company had a 60% market share overnight. And this you see always with inventions of general purpose technology. That it tends to lead to monopolies. Now monopolies today fill the market. Like Google worldwide has 83% of search engines. And it has only declined 3% compared to last year because of the Bing search engine by Microsoft. And even... And in tools for AI, there are only two serious components. PyTorch is the most favorable one in my lab. And so on. There are many monopolies around. And that is because AI is a general purpose technology. And after the introduction of general purpose technology. That tends to be monopolies. And... Let's consider one more. The first American railroad. Also general purpose technology. Because you could do many things with it. Many different things. Just like AI. It was completed in 1870. And only four years later the farmers protested. Because what did the people who owned the railroad do? They built warehouses. Of which they had the exclusive rights to. So whenever you want to transport something by train. You had to store it in their warehouse. Otherwise you couldn't. So... And only... Four years later. In the state of Ohio. After protest. Of the garden movement. They seized the warehouse. And this is America. This is America in its most liberal age. They took the warehouse because... They ruled that it was in the public interest to have a warehouse. Not in the private interest. Because there was only one warehouse. The one connected to the railway. If you rewrite this story. It's almost identical to Amazon. If you have a good business. And you want to do it online. You have to go through the railroad Amazon. And Amazon is not a retail company at all. That it's an advertising company. They make... Last year. They first published... Their... Their income. From advertisements. On their railroad system. So to say. And that was 30 billion. And the other thing. They make money on. Is... Web services. Which is another 15 billion. And in the retail. They don't make any money. Because they don't have to. It's an information railroad. So to say. General purpose technologies. General purpose technologies. Always lead to monopolies. And they should. Scare you. And they should not scare you. In the sense. They should scare you. In the sense. That they finally go. They should not scare you. In the sense. That they will finally. Evaporate. Either by law. But then the law should be there. And... Or by incompetence. Of management. Or by competition. Very hard to get. AI is not different. So it is very good to regulate. Its powers. And to build on trust. And why. Is a monopoly in the end. Not good. Because. In competition. You can. There grows. It's much easier to grow trust. Because. If I don't like. This offer. I can always go to that offer. If I don't like. To rule out. My cookies. And there comes another. Which has no cookies. I go to the one. Who has no cookies. So that's why. I think it's important. Um. Also in this regard. To regulate AI. There are. Five. Things. To build the trust. I hope you have a good dentist. And if you have a good dentist. You realize. How trust is built. Because you can never control. What the dentist does. Let's assume it's a she. And then. How do you trust your dentist? Well. If she has a good story. And she can reasonably predict. What she's going to do. Or she has. Makes no errors in the end. That the tooth is repaired. Then you build trust. As a dentist. And the same AI should do. It should be robust. In their outcome. It should explain. Where it is needed. Only where it is needed. And then. Different from the dentist. It should also guard the privacy. Very important. Maybe even most important. In the end. It should have. Only. To do something. With what she wants. And not acquire anything. And it should be fair. As in. Treat all people. Equal. In potential. Let me. Add. Two more thoughts. One is on privacy. BMW. You know. The cars. Even today. I checked it. No. Not today. I checked it. A month ago. They send the position of the car to the factory. And they. They say so. On their website. They say. They do this anonymously. That's a very interesting statement. Because here are the. Are the positions of my car. Now. They send. Imagine. I don't have a BMW. I have an Audi. But. It doesn't matter. Let's assume it was a BMW. I have a question for you. Where do I live? Very good. I live there. And. And. Where do I work? Very good. I live. I work here. And. Who do I visit regularly? Where is. My mother. Well. Very good. There. And do I have a girlfriend. I visit. Occasionally. My wife. Doesn't know. Well. That must be her. And. So. Privacy. If you have a lot of data. You can. Anonymize. What you want. It will not work. Google knows. So much. About each of you. That. Whether they also know. Your name. Is irrelevant. It's completely irrelevant. Because. You know. This. Study. Of. Facebook likes. Do I have to finish. Well. It's very important. That everybody knows. This. There was this study. From Oxford. And Stanford. That they reconstructed. Your personal preferences. From. Two hundred likes. Of Facebook. And the material behind the likes. And they did so more precisely than everybody else. Colleagues. Children. Family. Apart from the spouse. Only the spouse could do it slightly better. So basically you could say that. Facebook. From. The data it has now. Can predict. Whatever personal preferences there are in life. Better than anyone else. This could scare you. Because you can use it for any purpose. For instance. You could. Use it for per political nudging. Like the Cambridge Analytica affair. Which was really. And that is. And it is led. To. Brexit. Because. Cambridge Analytica. Send out. Personalized advertisements. To everyone. Which not necessarily. Have to. Congrue. To another message. You send to someone else. One more slide. I believe. Or maybe this is it. Oh yeah. Fairness. Also interesting. It's not. On it now anymore. But if you. Type. Search question. On. Three. White guys. You got. The picture here. At the bottom right. When you typed. Four years ago. The question. Three black guys. You got. The picture. In the upper left corner. And basically. They are. Mug shots. From people who are in jail. And the other one. Is on the beach. And. And. People notice this. And. Spit it out. In public. And. Google answered. Well. It's not us. It's the data. Our algorithm. Is completely fair. But the data. Are biased. Towards this. And. My answer is. If you are offering. A public service. It's your responsibility. No matter. You would. Get it. So. Don't run away. From it. It's not easy to solve. At all. Because. The algorithm changing. Doesn't help. At all. The last slide. The EU has regulation. The best in the world. But not good in the long run. And. GDPR. That's the. Law that asks. For cookie consent. Is basically. Without meaning. Everybody clicks it away. And. There are an awful lot. Of personal information. Guarded. By these companies. And. Why would you trust. A company. To hold. So many. Personal information. The digital service act. Is basically. To provide. Fairness. In. If you provide. A service. And. This will. But it's very difficult. It's called. It makes a distinction. Between profiling. And non-profiling. If you non-profile. It's. It doesn't pose. Many restrictions. But. When you. Pose. Profiling. Then it does. And. Basically. This will lead. To 10 years. Of lawsuits. Much more. Than anything else. Because. They use. Definitions. Which are very hard. To defend in court. And. The very recent. Market acts. Is the first step. Towards. Containing. The monopoly. So. Facebook. And all companies. Which have more. Than 10 percent. Market share. They should offer. Services. To anyone. All small businesses. Should have. Equal rights. Than the party itself. Apple. Should not. Ask. For 30 percent. Of all payments. But only. A reasonable amount. So. This will. Make a difference. And by the way. Don't think. In America. The same act. Or a similar act. Is being prepared. So this. Point three. Is the point. Where Europe. And the US. Are basically. The same. And the AI act. Currently on the table. Is far. Too. Complicated. To be. Executable. Thank you. Torniamo all'italiano. Io non ho nessuna slide. Quindi chiedo alla regia di toglierle. E vi parlo invece un pochino più a braccio della mia esperienza su quello che è l'adozione degli algoritmi di machine learning all'interno delle aziende. Vi parlo delle aziende europee. Devo dire non senza un certo imbarazzo. Cioè io voglio che voi adesso vedo molte facce giovani se siete ingegneri data scientist o lo sarete o lo diventerete magari farete data scientist aziendale. E' importante che sappiate che realtà vi trovate davanti in azienda e quali sono le vostre leve per avere impatto. Allora l'imbarazzo è perché diciamo io ho cominciato a fare il lavoro che faccio oggi una decina d'anni fa ovvero sedere nei consigli di amministrazione delle aziende. Il consiglio di amministrazione è l'organo supremo della gestione aziendale quello che sovrintende alla strategia. nomina e revoca l'amministratore delegato e quindi ha il compito di dare l'impulso a tutta la strategia aziendale. E 10-12 anni fa diciamo le aziende hanno cominciato a portare in consiglio di amministrazione le questioni relative alla digital transformation. Quindi per tanti anni ci siamo esercitati su che cosa vuol dire digitalizzare i processi, che impatto può avere sulla nostra legacy aziendale e così via. E non è che tutte quelle questioni le abbiamo risolte cioè purtroppo non è che abbiamo fatto tutte le cose che ci prefiggevamo all'epoca della digital transformation. Però oggi ci è arrivata sul tavolo anche l'intelligenza artificiale con tutto il suo carico di diciamo possibili bias, discriminazioni, questioni di privacy e tutte le tematiche appunto che Arnold ha anticipato. Allora una decina di anni fa se vogliamo in ambito aziendale c'è stato il primo boost, la prima esplosione di questo tipo di algoritmi quando si è cominciato a capire che grazie alla combinazione di disponibilità di banda per la trasmissione dei dati, di capacità di elaborazione che prima non c'era e di disponibilità di database molto corposi, per esempio le immagini etichettate, potevamo distinguere la foto di un muffin da quella di un cagliolino o la foto di un pappagallo rispetto a quella di un guacamole, no? E quindi questo ha dato impulso a tutta una serie di applicazioni anche importanti in tanti mondi che hanno a che fare con i processi produttivi delle aziende. Oggi però siamo in mezzo a una nuova esplosione, cioè le cronache proprio di questi mesi, no? Ci dicono che l'AI non è più solo capace di produrre testi che possono essere tranquillamente scambiati per testi scritti da un giornalista professionista o di creare immagini che funzionano come le immagini create da un illustratore professionista, ma arriviamo anche ai video che possiamo generare sulla base di semplici prompt testuali con tutto il rischio ovviamente di deepfake, di svuotamento delle professioni creative, no? Tutti coloro che fanno animazione, videogiochi, eccetera. Ma questo riguarda diciamo appunto chi fa, il giornalista, l'illustratore, l'animatore e così via, no? Qual è l'impatto su tutto il resto, sulle aziende normali, cioè quelle che fanno mobili o producono biscotti o commercializzano energia o concedono credito o distribuiscono frutta e verdura? Ovviamente questo tema è come posso usare queste fantastiche capacità computazionali della mia intelligenza artificiale per prendere decisioni di business migliori, no? Allora non è che le decisioni di business migliori perché più automatizzate, più veloci e più corrette si possono prendere solo adesso, no? Io ricordo perfettamente dalla mia esperienza nel mondo retail negli anni 90 che per esempio quando si diffusero le carte fedeltà, quelle con cui voi prendete i punti fragola al supermercato, no? Che sono una cosa ormai abbastanza vecchia, molti supermercati per esempio in Inghilterra cominciarono a offrire ai loro clienti anche credito al consumo per esempio, no? Allora, andando a fare delle analisi con gli strumenti che c'erano allora, e attenzione perché allora c'era una normalissima reglazione multivariata dove mettevi dentro i dati che avevi, non è che c'erano delle tecniche particolari, no? Per manipolare questi dati, però scoprivano che i migliori clienti a cui fare le offerte di credito al consumo, non so, per comprarsi una vacanza e pagare la rate, chi erano? Erano i clienti che compravano le verdure bio, no? Le verdure biologiche, evidentemente questi clienti qua erano più propensi a restituire le rate del debito rispetto a quelli che non compravano le verdure biologiche. Però appunto all'epoca non c'era modo di trattare 10.000 variabili, se ne trattavano magari una manciata, però quella manciata lì era sufficiente a prendere una decisione di business. Oggi Google, Facebook, eccetera, usano migliaia o centinaia di migliaia di variabili per ogni cosa che vedete nel vostro newsfeed, eccetera, no? Su Instagram e via dicendo. Però le usano per massimizzare ROI degli investitori pubblicitari, ROI Return on Investment, ritorno sui capitali investiti a comprare pubblicità su queste piattaforme, no? Quindi, diciamo, nell'ambito tech è ovvio che questa conoscenza ha avuto un impatto super importante, ma al di fuori delle aziende tech che cosa è successo? E allora un po' sì e un po' no, nel senso vi faccio qualche esempio pratico tratto dalla vita reale. Allora, voi avrete provato magari a interagire con un chatbot di un servizio clienti, no? Voglio cambiare il mio piano tariffario piuttosto che trovare una nuova offerta di energia, adesso un tema caldo ovviamente. Allora, io una decina d'anni fa lavoravo in Vodafone e cominciavamo a fare le primissime sperimentazioni di un chatbot che con degli algoritmi di machine learning cerca di capire di cosa avesse bisogno il cliente, rispondere a tono e cercare di risolvere il problema senza che dovesse intervenire un umano. Poi ovviamente queste cose sono andate avanti, ogni operatore diciamo ha il suo chatbot, però è ancora raro diciamo che le interazioni con questi strumenti dal punto di vista del consumatore vi lasciano deliziati, no? Cioè, sono poche le persone che risolvono al 100% il loro problema col chatbot e anzi dicono avrei voluto parlare piuttosto con un chatbot che con un essere umano, no? Sempre in quest'ambito la churn prevention, ovvero la prevenzione del comportamento di churn del cliente, ovvero di disabbonamento per andarsene da un altro operatore, no? Di nuovo, cosa a cui progressivamente ci si avvicinava con i modelli fatti una volta con le regressioni diciamo normali, poi non è che a metterci sempre più variabili siamo arrivati a diciamo risolvere il problema, no? Cioè, se sono calate le chiamate ai call center piuttosto che è calata la propensione del cliente al churn, ovvero al cambio di operatore, è perché sono state semplificate le offerte piuttosto che si sono presi altri provvedimenti, ma non tanto nella mia esperienza perché i modelli chatbot funzionano meglio. Un altro esempio riguardante diciamo quello che succede nelle banche, no? Una grande banca europea ha tentato di automatizzare tutto il suo processo di adeguata verifica della clientela, scusate qui adesso entro un minimo nella regolamentazione bancaria, quindi processo di know your customer vuol dire che quando un cliente viene da voi e dice mi chiama Paola Bonomo, questo è il mio indirizzo, questo è il mio codice fiscale, voi dovete verificare che effettivamente la persona sia quella che rappresenta di essere, no? Perché altrimenti magari è un terrorista, magari ricicla soldi della mafia o quant'altro, no? Allora, questo processo qui, appunto, io sono a conoscenza di una grossa banca europea che ha provato ad automatizzarlo dando tutti i dati interni ed esterni, no? Perché poi dalle varie fonti a cui la banca attinge, impasto a un algoritmo di machine learning. Però che cosa è successo? Ha dovuto fare marcia indietro quando il sistema ha iniziato a generare un enorme numero di segnalazioni di problematiche false, no? Cioè, quelle che si chiama in gergo falsi positivi, quindi cominciava a dire, non so, Tatiana ha comprato un kalashnikov, Arnold mangia i bambini, e tutte queste robe non erano vere, no? Però generavano del lavoro extra al personale della banca che doveva tornare e dire, no, ma scusa Tatiana fammi capire, no? E quindi è diventato un fattore di, diciamo, peggioramento dell'efficienza del processo più che non di miglioramento. Un altro esempio ancora, agenzia di lavoro temporaneo, uno dei grandi leader europei che si è messo a lavorare con Google per fare il matching tra la domanda e l'offerta di lavoro, no? Quindi dal lavoro di cameriere al personale amministrativo a chi più ne ha più ne metta, no? Allora, si sono messi lì, hanno sviluppato dei modelli per migliorare, per rendere efficiente questo matching e per renderlo meno, diciamo, dipendente dal lavoro delle persone, dell'agenzia, ma più veloce, più automatizzato. Allora, hanno però, sì, era più veloce, ma forse era anche più efficiente, forse, però non sono riusciti a dimostrare che fosse fair, no? Quindi vengo alla fairness, che è una delle preoccupazioni appunto evidenziate da Arnold poco fa, e ha dovuto fare marcia indietro e tornare a dare una preponderanza al giudizio umano per verificare che non si verificassero delle discriminazioni inaccettabili, ovvero che i lavori migliori andassero sempre a un certo tipo di persone con un certo tipo di caratteristiche, no? E mi fermo qua, perché ovviamente potete immaginare gli aspetti deteriori di tutto questo. Quindi la domanda è, come mai non ce la facciamo ad avere i risultati che vogliamo avere nelle aziende da questo tipo di tecnologie? E non ce la facciamo per un po' di motivi, no? Nel senso, forse manca un po' di ownership del top management, no? Si mettono in una stanza i data scientist, si dice, sono ragazzi, lasciamoli lavorare, però non si, diciamo, non si dà il beneficio dell'esperienza di business a chi ha l'esperienza tecnologica, no? A volte io la chiamo un po' esternalizzazione mentale, no? Nel senso che si dice, vabbè, facciamo che loro ci portano la soluzione, ma se non conoscono a fondo il problema, come possono portarci la soluzione, no? A volte, questo è ancora più evidente quando si esternalizza un fornitore di information technology, dicono, vabbè, lo diamo tutto ad Accenture, ci pensano loro. La cosa peggiore del mondo, perché tu non puoi esternalizzare come azienda una cosa che dovrebbe essere una tua core competence, se la dai fuori e non sai valutare la qualità di quello che ti arriva dentro, sei fondamentalmente morto. Quindi, per fare sul serio, ci si devono mettere un po' le risorse senior in azienda, devono unire l'esperienza di business e l'ascolto al cliente, insieme alla capacità di far parlare i dati, che invece sono quella che portano i maghi dei dati. Altra cosa che spesso succede, silos tra funzioni o dipartimenti, è poco dialogo tra funzioni di business e funzioni di controllo, no? Per esempio, la funzione di compliance, che è quella che verifica che tutti i trattamenti dati siano fatti in maniera legale, vi dice, attenzione, sti dati dei clienti, tu non li puoi far uscire, far andare sul server del fornitore, o sul cloud del tuo fornitore, no? Te li devi tenere in casa. Dici, ma io devo far sviluppare il mio fornitore e il mio modello di machine learning per fare la cosa X, no? E allora, forse, devi trovare un modo di allenare, disegnare e allenare il modello su un dataset di dati sintetici, che non sono i dati reali, ma sono dati, diciamo, trasformati, che però ne mantengono le proprietà statistiche e quindi vi permettono di generare un modello che dà risultati simili a quello che avreste sviluppato con i vostri dati. A volte un po' ci sono anche forse poche aspettative, poche ambizioni, no? Cioè, io vedo, per esempio, nel mondo della moda, sì, diciamo, l'alta moda in particolare dice noi siamo molto digitali, molto orientati all'esperienza digitale del cliente. Poi gli fai vedere quello che fa un cinese come Shein, che praticamente non disegna neanche più le collezioni, ma, cioè, sforna capi disegnati dall'intelligenza artificiale, praticamente senza l'intervento umano, e un po' capiscono che non stanno proprio sfruttando, diciamo, fino in fondo. Quindi, per concludere, diciamo, il machine learning in azienda non è un silver bullet, non, diciamo, non risolve tutti i problemi che possono essere di natura antropologico, sociologico, di comportamento dei clienti, no? È quello che sta scoprendo, diciamo, Elon Musk, che è un ingegnere fantastico, ma quando prende in mano Twitter, magari qualche lacuna ancora gli rimane, no? E poi va, sì, a costruire, quando funziona delle posizioni di dominanza di mercato molto importanti, posizioni che però vanno affrontate, e torno qui al mondo della regolamentazione, con una prospettiva integrata tra avvocati, quindi persone laureate in giurisprudenza, economisti, quindi persone che studiano il funzionamento dei mercati, e ingegneri come siete o sarete voi, no? A volte, soprattutto in Italia, non in Inghilterra, per esempio in Inghilterra è il capo dell'autorità che regola la concorrenza ai mercati, è un economista col PhD in economia, in Italia sono sempre stati persone di giurisprudenza, no? Per cui gli mancano un po' questa interdisciplinarietà e questa capacità di leggere i fenomeni da tre punti di vista. Però mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e credo che adesso tocchi a Stefano. Ciao Stefano! Buongiorno a tutti. Intanto mi scuso per non essere lì con voi, però è una questione proprio di opportunità, nel senso che io ho un sistema immunitario che fa le bizze e visto che non ci sono più i dati su come sta andando la pandemia, perché purtroppo non vengono più pubblicati, l'atteggiamento cauterativo è quello che mi fa dire evita i luoghi con tante persone ed è la ragione per cui invece di essere lì con voi come negli anni precedenti, oggi me ne sto in casa. essere da remoto ha i suoi vantaggi, non si spostano gli atomi e si spostano i bit a vantaggio del pianeta, uno degli svantaggi è che non vedo la sala e quindi non so chi ho davanti. Presumo che ci siano tanti giovani, perché Paola poco fa ha detto voi sarete degli ingegneri, quindi prendo per assodato che ci siano tanti giovani. D'altra parte sono anche contento di non essere lì, perché un po' mi spaventa il fatto che Tatiana vada in giro con un Kalashnikov, che mi pare di aver capito da Paola. Non è vero, se dici così qualcosa di vero ci sarà. È il nome perché Tatiana Kalashnikov, non è colpa di me. Però torno su questo. Mi è piaciuta molto il passaggio della relazione del professore Prima quando diceva l'identità, il nome è inessenziale. Sì, il nome è abbastanza inessenziale nel senso che è solo un puntatore. L'identità nostra, che cos'è che ci definisce di più? Ci definisce di più il nostro nome, cognome, altezza, codice fiscale o l'insieme delle nostre preferenze, conoscenze, relazioni, abitudini, eccetera. Chiaramente la seconda. Ed è assolutamente ovvio che tutte queste briciole digitali che ci lasciamo dietro grazie al fatto che internet è connessa consente a chi raccoglie queste briciole digitali di avere una conoscenza di noi stessi a volte superiore a quella che noi stessi abbiamo. Cioè a conoscere la nostra identità meglio di noi stessi. Per fare ciò si usa il machine learning. Ripeto, io non vedo chi ho davanti ma giusto un brevissimo inciso. Se conoscete l'argomento non vi dico cose nuove però lo potete usare, vi dico un modo semplice per spiegarlo alla zia. Se invece non lo conoscete può essere una cosa utile per chiarire. Machine learning è l'attuale generazione di intelligenza artificiale, quella che parte dai dati per distillare dei modelli statistici da utilizzare per fare nuove predizioni. Se non avete capito niente va benissimo uguale. L'esempio che io faccio sempre per spiegare facilmente il machine learning è il proverbio. Se oggi voi guardate fuori dalla finestra e guardate verso ovest vedete che il cielo è grigio. Se io vi chiedo come sarà il tempo domani voi mi rispondete probabilmente non sarà bello. Perché? Perché conoscete il proverbio rosso di sera, bel tempo si spera. Rosso di sera, bel tempo si spera è un modello statistico costruito osservando la realtà acquisendo dati dalla realtà avendo fissato alcuni parametri si guarda verso ovest alla sera e si guarda il giorno dopo com'è il meteo e una volta che ho costruito questo modello statistico che ho verificato che funziona quasi sempre lo utilizzo per fare nuove predizioni. quindi il modello è rosso di sera, bel tempo si spera. Questo funziona con il meteo senza andare a capire perché questo accade. Non occorre. Il fatto è che funziona. Potrei anche fare, non so trovare la correlazione tra un insieme di dati di un appartamento metri quadri numero di vani piani, quartieri e il suo prezzo. E' lo stesso discorso rosso di sera, bel tempo si spera caratteristiche di appartamento prezzo piuttosto che caratteristiche di una cellula tumorale oppure no piuttosto che caratteristiche della strada e giro a destra barra a sinistra accelero barra a freno. Tutti questi fenomeni si basano su questa costruzione di modelli statistici e questo è reso possibile come spiegava poco fa giustamente Paola dal fatto che oggi noi abbiamo dati da mettere in database enormi connettività per potergli raccogliere ubiqua è una capacità di calcolo mostruosa per poter andare a distillare i modelli statistici il problema con questo tipo a me non piace tanto il tema la parola intelligenza artificiale neanche stupidità artificiale sul mio blog avevo fatto una provocazione che ogni tanto gira ho visto dicevo se li chiamassimo sistematic approaches to learning algorithms and machine inferences che l'acronimo fa salami staremmo a parlare se i salami possono diventare coscienti se i salami possono eventualmente un giorno potranno adottare dei figli se i salami potranno ereditare evidentemente no il fatto delle parole che usiamo le etichette che usiamo ci deviano le categorie mentali e ci portano a fare ragionamenti e a estendere le metafore in zone che francamente non meriterebbero noi non ci chiediamo se una montagna di libri sia un ambiente adatto per la riproduzione degli stambecchi però ci facciamo domande simili se un'intelligenza artificiale potrà mai essere cosciente potrà mai essere cosciente il problema però questo questo modo di fare software che è un modo di fare software che come tale dilagherà anzi sta già dilagando come giustamente veniva ricordato ci consente di risolvere una categoria delle categorie di problemi diversi da quelli che risolvamo a risolvere con i tradizionali approcci algoritmici procedimentali e sono problemi di percezione e classificazione e predizione percezione e classificazione che tipicamente erano attività riservate all'uomo caratteristiche dell'intelligenza umana e quindi noi diciamo oh questa macchina è intelligente ma se andassimo a leggere i giornali degli anni 70 scopriremo che chiamavano macchinette intelligenti le calcolatrici che sapevano fare le moltiplicazioni e le radici quadrate qui c'è un tema ogni volta che noi esternalizziamo dal nostro cervello un'attività la facciamo fare a una macchina la macchina non ha i limiti che abbiamo noi e aumenta la sua scala e la sua velocità in un modo incredibilmente incommessurabilmente superiore a quello che possono fare gli umani quindi noi oggi siamo in grado di fare sistemi che fanno percezione classificazione e predizione a una velocità e a una scala molto superiore a quello che usano gli umani partendo dai dati il primo problema è i dati come raccogliamo i dati li raccogliamo bene o li raccogliamo male ma se li raccogliamo bene anche se li raccogliamo bene come veniva detto giustamente prima il mondo è come è non è come noi lo vorremmo se io usassi un sistema per determinare lo stipendio giusto tra virgolette ho messo che si possa definire giusto per delle persone in una grande azienda sulla base degli stipendi storici e delle caratteristiche storiche delle persone finirei visto che il modello è distillato dai dati a cristallizzare il problema che le donne sono sottopagate ed ecco che allora dobbiamo giustamente come diceva il professore correggere questa cosa ma correggere implica fare una decisione noi e quindi applicare una nostra scala di valori perché noi vogliamo che le donne giustamente abbiano condizioni pari se non superiori a quelli degli uomini se fossimo in qualche paese sotto sotto il come si chiamava l'isis probabilmente vorremmo in Iran vorremmo il contrario vorremmo che le donne stessero a casa coperte di nero ecco che che quindi le scelte che noi andiamo a fare quando andiamo a mettere in mano questi sistemi devono dire molto sui nostri valori sulla nostra etica io ho partecipato al gruppo di esperti sull'intelligenza artificiale della Commissione Europea e qui abbiamo affrontato a un certo punto il tema del fatto che tante persone dicono appunto che queste macchine potrebbero diventare coscienti e a un certo punto quando abbiamo scritto due pagine su questa cosa e poi abbiamo detto ma vogliamo veramente mettere queste due pagine nelle linee guida etiche e allora ci siamo guardati e abbiamo detto chi è che crede che in queste cose che le macchine potranno mai diventare coscienti e sostanzialmente c'era solo una persona che era un filosofo che appunto facevano stretching della metafora e diceva le macchine diventeranno coscienti per cui alla fine il compromesso fu quello perché se lo avessimo messo nel rapporto avremmo nobilitato il tema non mettendolo ci saremmo esposti al fatto di critiche a possibili critiche per aver ignorato un tema così rilevante le macchine coscienti che prendono il controllo dell'umanità e allora abbiamo concordato di metterlo in una nota a pie pagina dove all'inizio avevamo scritto che era un scenario da fantascienza poi abbiamo cambiato un sabato mattina abbiamo deciso di scrivere il realistico questa cosa ha scatenato l'ira di quel filosofo che poi sui giornali ha detto che eravamo servi delle multinazionali che non avevamo voluto introdurre limiti queste red lines come le chiamava lui senza specificare bene cosa allo sviluppo dell'intelligenza artificiale pur tuttavia queste tecniche anche se non arriveranno ad essere coscienti a prendere il controllo dell'umanità alcuni problemi ce li pongono che problemi che questioni che ci portano a capire a ritornare all'essenza dei problemi che affrontiamo vi faccio un esempio per spiegare quello a cui mi riferisco dopo mi pare quattro interrogazioni parlamentari si è saputo che in Italia si è saputo il numero dei foto segnalati in Italia i foto segnalati sono le persone che hanno avuto a che fare con la giustizia e per le quali ci sono le foto segnaletiche che vedevamo nell'esempio prima in Italia c'erano 50.000 foto segnalate perché questo era il limite gestibile da un umano foto segnaletiche questo sistema è stato digitalizzato e il primo sistema è stato portato a 100.000 foto poi è stato fatto un upgrade un po' di disco un po' di CPU ed è stato portato da 100.000 a un milione poi visto che tanto passare da un milione a 10 milioni non costava è stato sostanzialmente nulla è stato portato a 10 milioni ci sono volute quattro interrogazioni parlamentari come dicevo per scoprire che oggi in Italia ci sono circa poco meno di 10 milioni di foto segnalati l'ultima volta che è stata fatta questa richiesta con poco meno di 20 milioni di foto segnaletiche ora voi capite che prima c'erano dei limiti intrinseci all'attività che erano dettati dalle facoltà umane è che questi limiti vengono tolti dal fatto che digitalizzi un'attività ma noi non possiamo prendere e dire lo facevamo prima quindi lo facciamo anche adesso bisogna tornare alle ragioni iniziali e porci delle domande sul significato delle cose che stiamo facendo questo vale tanto in questo esempio quanto anche in applicazioni aziendali non voglio dilungarmi troppo però mi premeva darvi questo sentore del fatto che cambia la natura dell'applicazione della tecnologia spesso si ritiene che la tecnologia sia neutrale la tecnologia non è neutrale la tecnologia può cambiare il significato delle cose l'ultimissima cosa che voglio dire è questa quando abbiamo a che fare con i social media ci dobbiamo chiedere che lavorano sulla nostra identità ci dobbiamo chiedere chi sta usando chi se siamo noi che usiamo i social media o se sono i social media che stanno usando noi la funzione obiettivo dell'azienda non è quella di massimizzare la coesione e la felicità della società è quella di fare quattrini e questo si fa facendo espandere l'emotività in modo tale da far restare di più tempo lì le persone e poterli fargli vedere più pubblicità quindi dare e qui entra in gioco la famosa dopamina questo però porta a posizioni più radicalizzate più estreme quindi meno meno compromessi meno coesione sociale e questo crea tensioni crea poca fiducia nelle istituzioni per cui io credo che lì ci sia Tatiana col Kalashnikov come dicevo prima e volevo chiudere con questo l'intelligenza artificiale sta già cambiando la società ed è molto difficile da regolamentare la regolamentazione interviene quando le tecnologie sono mature io sono andato a contare quanti regolamenti e direttive europee ci sono nel settore dell'automobile e sono 125 tra regolamentazioni e direttive vigenti 125 abbiamo ancora una lunghissima strada da fare sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale e naturalmente questa non può essere fatta solo da avvocati per cui la mia esortazione qualcuno tra di voi che abbia passione politica è di sporcarsi le mani di cercare di partecipare ai processi politici di cercare di intervenire di cercare di prendere di assumere delle posizioni e tanto per iniziare se non conoscete Mastodon forse vale la pena di conoscerlo perché di fatto oggi è l'unico sistema di social media che non essendo finalizzato a generare profitti per l'azienda perché non c'è un'azienda ha cura di minimizzare di minimizzare le tensioni tutti i meccanismi di nudging che ci sono all'interno di Mastron sono per minimizzare l'espansione la produzione di dopamina meno dopamina e più tranquillità è l'unico social media oggi ancora non governato dall'intelligenza artificiale e forse potrebbe essere una cosa da considerare se c'è un take away da questa talk di oggi andate a provare Mastodon ho fatto questa chiusa su Mastodon perché Anna Masera non so se è in sala Anna Masera diceva spererei che durante il festival di tecnologia qualcuno parli di Mastodon quindi ho voluto fare quest'appendice sì esatto grazie Stefano grazie a tutti gli interventi che ci sono stati abbiamo qualche minuto per qualche domanda se nel pubblico c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa ai nostri ospiti mi portano un microfono chi rompe il ghiaccio forse siamo anche un po' nei tempi ah c'è una domanda perfetto ottimo allora buonasera io io sono un data scientist che lavora in azienda si parla tanto di coscienza appunto del fatto che non siamo ancora assolutamente a quei livelli però spesso il mio dubbio è ma che cos'è davvero la coscienza cioè noi non lo sappiamo quindi come facciamo a dire le macchine diventeranno qualcosa che non sappiamo definire posso dire qualcosa io sì assolutamente Federico Faggin che voi conoscerete certamente comunque un signore di 80 anni nato a Vicenza e che ha inventato la tecnologia alla base dei microprocessori ha fatto il primo processore l'Intel 4000E4 se andate a vedere lo schema dell'Intel 4000E4 in un angolo ci sono le iniziali FF dopodiché ha fatto varie aziende tra cui un'azienda che è quella che produce lo schermo dei vostri iPhone i touch screen Federico Faggin sta dedicando gli ultimi i più recenti i decenti gli auguriamo lunga vita della sua vita a costruire una teoria della coscienza proprio per questo che diceva la persona lo scienziato che è intervinto poco fa perché noi non abbiamo una definizione non abbiamo una teoria di che cosa sia la coscienza e comunque lui dà una sua definizione tra l'altro ha una sua teoria complessiva della coscienza che è stata anche pubblicata di recente in un articolo che ha a che vedere con la fisica quantistica e io vi dico che ho avuto veramente serie difficoltà a capire metà dell'abstract non l'articolo che è proprio inarrivabile perché trattandosi di fisica quantistica è inarrivabile però sostanzialmente quello che dice la coscienza è l'esperienza l'esperienza si vive non si comunica come gli stati come i il come gli stati quantistici che non possono essere comunicate nel momento in cui li comunichi spariscono per cui è una cosa è l'esperienza un'altra cosa è la manifestazione dell'esperienza la coscienza non è comunicabile l'esperienza non è comunicabile e conseguentemente le macchine non possono essere coscienti possono solo comunicare una parvenza una simulazione di coscienza ci ho detto appunto io ne capisco veramente molto poco però se la persona lì è interessata mi scrive e gli mando l'articolo il preprint di Faggin io aggiungerei anzi farei un passo indietro rispetto alla risposta di Stefano che è questa non solo facciamo fatica a definire la coscienza a meno di non essere Faggin ma abbiamo anche tante definizioni di intelligenza per questo penso che forse Salami sarebbe più appropriato che non intelligenza artificiale come etichetta chi ha un po' studiato queste cose come Howard Garner ha una teoria dove ci sono otto tipi di intelligenza umana ci sono quelle più vicine alla computazionale ovvero l'intelligenza logica l'intelligenza visiva ci sono quelle prettamente sociali quindi interpersonale linguistica e anche musicale poi ci sono le intelligenze cosiddette autonome ovvero quella kinestetica ovvero la consapevolezza del corpo intrapersonale quindi l'auto introspezione e quella naturalistica che è la capacità di entrare in contatto con le piante gli animali la natura che ci circonda tutte queste secondo Gartner sono intelligenze allora quando una macchina ne esibisce due o tre potremmo dire che ha un'intelligenza a mio parere limitata ma è un'intelligenza diversa per alcuni ambiti ovviamente molto più spiccata di quella umana per altri ambiti estremamente indietro insomma poi è vero che se torniamo all'esempio dei chatbot che facevo prima ovviamente miglioreranno ovviamente saranno più bravi a imitare una vera empatia nei confronti degli umani ma rimangono pappagalli stocastici quindi un po' di empatia vera sarebbe preziosa ma non ci siamo ancora come diceva Tatiana le persone sono scaffate abbastanza per il momento da distinguere l'empatia vera dall'empatia simulata poi la simulazione diventerà sempre migliore e allora avremo davanti il deep fake però da qui a dire che abbia coscienza faccio veramente un po' fatica ancora sulla base di quello che abbiamo davanti oggi Arnold è stata separata per la prima volta di mental power che fino che l'embole inventato fisica e l'embole sono sempre un'unità, se volessero a lavorare o non, non potete separare. Dopo che c'è una macchina, come un steam engine, si è separato, e le persone pensavano che non avesserebbe da questa unità. La stessa cosa succede qui. Se c'è obiettivo o obiettivo o obiettivo o obiettivo o obiettivo o obiettivo, l'AI can deal with it, and in order to handle consciousness, you need life experience and the computer doesn't bring that to the scene. So that's my position where we are currently. Thanks, thanks for the explanation. I perfectly agree with all what has been discussed. The name, ok, torniamo all'italiano, scusate. e sono perfettamente d'accordo con tutti gli interventi. Sicuramente il nome, l'intelligenza artificiale, non è il nome giusto. Probabilmente Salami sarebbe meglio, ma in generale dobbiamo capire che dietro questo nome non c'è una vera intelligenza. Stiamo lasciando le macchine svolgere un punto. Senti, io ho connesso due neuroni mentre parlavate. Il pensiero è un po' questo, no? Io ho sempre pensato, diciamo, studiando queste tematiche che alla fine l'intelligenza è un prodotto dei sensi che sono connaturati al corpo. Il corpo che abbiamo è la nostra interfaccia, il nostro input-output con l'ambiente che ci circonda, quindi la pelle, gli occhi, eccetera, sono tutti organi sensoriali che appartengono al nostro corpo. Senza corpo per me è difficile pensare all'intelligenza. Cioè il cervello sintetico in un barattolo per me è difficile pensare che sviluppi coscienza. E io non sono cattolica, non credo alla Bibbia, però secondo voi perché c'è scritto che il verbo si fece carne? No? Perché forse per comprendere l'esperienza umana non si poteva restare lì su, no? Così, ma bisognava farsi carne, no? Cioè adesso stiamo andando un po' sulla metafisica, ma mi è venuta in mente questa cosa. Così non ci avevo mai pensato prima, quindi grazie che stasera mi avete dato un pensiero nuovo. In realtà c'è anche l'intelligenza, diciamo, incorporata. Cioè nel senso che oggi se parliamo di intelligenza, diciamo di sistemi intelligenti separati dal corpo, hanno determinate capacità e sono in grado di fare qualcosa. Quando al momento mettere l'intelligenza nel corpo che si muove nel tempo e nello spazio, ad oggi è molto più difficile. È una sfida ancora molto aperta sulle capacità che vediamo oggi di parlare, magari di produrre testo, di generare nuove immagini, che in teoria dovrebbero poi diventare strumenti per i robot che si muovono nel tempo e nello spazio. Siamo ancora molto lontani, anche solo per l'automotive, diciamo, di fare qualcosa, una macchina che si muova realmente da sola, senza un controllo umano e una supervisione. Quindi c'è ancora molto, molto lavoro da fare. Ci sono altre domande? Sì? Si sente? Se dobbiamo dare o provare a dare una definizione di intelligenza, a me sembra modestamente che la più veritiera, la più convincente sia quella etimologica. Cioè leggere dentro il senso delle cose, afferrare in profondità il senso delle cose, che poi questo rimanga vago. E certo, declinare l'intelligenza secondo le dimensioni di computazionale, musicale, certo, permette di oggettivarla di più. Ma è l'etimologia che ci aiuta? Sicuramente, sicuramente ci aiuta. In realtà, appunto, è proprio questa sensazione dell'essere, in realtà, che manca in questo momento. Cioè l'intelligenza sa fare alcune cose, ma il common sense, il senso comune, in questo momento non entra o non è ancora entrato in quella che è il machine learning, quindi l'intelligenza artificiale come la intendiamo, come i tecnici, diciamo, la intendono. Quindi questo senso comune in questo momento è ancora una conoscenza vaga che stiamo cercando di portare anche nella parte tecnica, ma che ancora è molto, diciamo, lontana dalla praticità. Quindi sì, c'è ancora sicuramente molto lavoro da fare per andare in quella direzione, per avere dei sistemi che capiscano questo, che abbiano questo senso in più che anche noi umani abbiamo, diciamo, ma è ancora piuttosto lontano. Sì? Mi trovo... Grazie. Grazie. Saluto Stefano. Ciao Stefano. Ci conosciamo da tempo. Volevo dire, io ho sentito parlare di intelligenza artificiale la prima volta nel 1984, perché io lavoravo come consulente di direzione in Olivetti, stavano producendo l'M24 e non era ancora uscito, ma io mi occupavo appunto di coordinare le attività sull'M24 e ci fu un gruppo di tecnici, uomini di marketing, che dissero dobbiamo fare un gruppo di lavoro per fare marketing sul fatto che l'M24, che è molto potente all'epoca, è in grado di... è dotato di intelligenza artificiale. mi chiamò il direttore amministrativo, perché questi volevano un budget, mi dice, ma cosa ne pensi? Perché io ero consulente. E gli disse, guardi che, siccome farà le stesse cose che fanno le altre macchine che sono uscite, si renderanno conto tutti che è una presa in giro e quindi non porti avanti questa cosa. Infatti fu bloccata, senti parlare di intelligenza artificiale vent'anni dopo, nuovamente. Grazie, grazie del contributo. Sì, è sicuramente vero che l'intelligenza artificiale ha una lunga storia, però forse questo vuol dire che appunto i giovani che sono qui in sala oggi ogni vent'anni le risentiranno queste cose, per cui si andrà sempre più avanti, ma vedremo. Ripeto, il nome purtroppo non è ideale, l'intelligenza è un'altra cosa al momento, siamo su un'altra scala. Va bene, allora... Ah, c'è ancora un'altra domanda, forse l'ultima, magari siamo un pochino fuori tempo. Ok, si sente. Volevo ringraziare prima di tutto tutti quanti per questi interventi. io volevo fare più una domanda per quanto riguarda il bias dei dataset, tutta la confusione, il caos che si andrà a creare sia a livello sociale, sia a livello tecnico, perché se noi andiamo a discutere, per esempio, il gender pay gap, e andiamo a cercarlo di risolvere a livello di dataset, sia a livello tecnico, sia a livello sociale, cosa andrà a succedere? Perché io ipotizzo che se si va a dire le donne e gli uomini devono essere pagati in modo egualitario, tutto quello che è successo prima dovrà essere corretto. Quindi quanti problemi in cascata ci saranno per raggiustare i dataset che sembrano il nodo della questione per questi intelligenti artificiali? Stefano, credo fosse un po' quello che dicevi tu, no? Al di là di come si aggiustano i dataset, il tema è chi scriverà le regole e quindi quali obiettivi saranno codificati nelle regole e come verrà fatto questo lavoro. Quindi è importante, credo, che persone, diciamo, che hanno uno stake, che hanno un qualche cosa da guadagnare o da perdere in come sono scritte le regole, debbano partecipare a scrivere le regole. E questo nel processo democratico viene fatto nel modo in cui Stefano ha provato a descrivere, in altri contesti viene fatto in modo diverso. Però appunto quando un'azienda si scrive le sue regole sarebbe bene che quell'azienda avesse nel gruppo che le scrive persone che esprimono la diversità di prospettive tutto il tema della diversity and inclusion in azienda ovviamente è indirizzato esattamente a fare in modo che le cose in futuro vadano meglio di come sono andate in passato. Grazie. Do you want to add something? Ok, go ahead. About bias, it's particularly important to realise that the idea which was put into AI will not happen in the sense that there is no reason because the real world determines what the discrimination is and what bias is, not AI by itself. And to what you said, I would like to add that to all of this also the technical solution should be integrated. as long as lawmaking, like you shouldn't have bias is completely separated from the technology you should be invariant to the color of your skin that's an algorithm. And the law makers have intentions and rules how to implement these intentions. If they don't meet because they don't understand each other then nothing will happen. So basically I agree with Stefano that AI is an instrument to make clear to the public and the politics that things are wrong in society bias wise and it should be improved. But don't expect heaven to start after you use an AI algorithm. Va bene, thanks again Arnold and everybody, grazie a tutti, grazie anche Stefano da casa, grazie Paola per essere stati qui e grazie anche al pubblico che è stato fino ad ora ad ascoltarci e a fare domande. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti